raccontare chi sono ho sempre trovato inutilmente faticoso raccontare agli altri di me di chi sono e cosa faccio e ad essere onesti non mi dare retta nemmeno da solo probabilmente nel mentre lavorerò questo video starò pensando a qualcos'altro tipo cosa farò una volta tornato a casa oppure al fatto che il tracking del pacco coordinato è fermo da due settimane a francolino di carpiano beh potrei sempre parlare dei miei video su youtube giusto per occupare qualche secondo nel 2016 ispirato da tutti i video che guardavo da piccolo ho aperto sul sito che noi tutti conosciamo un canale in cui porto video di animazioni stop motion il meccanismo di base per questa tecnica è molto semplice un elemento deve andare da un punto a a un punto b spostandosi ad ogni singolo scatto della fotocamera in genere immagini ci sono meglio è sempre che nel frattempo non cada qualcosa portandoti caduta dopo caduta verso un esaurimento iniziai senza nemmeno un tre piede per la fotocamera con l'illuminazione sbagliata ed usando dei vecchi giocattoli che avevo in casa ed il risultato come potete immaginare non era anche ma dopo tanto lavoro un upgrade tecnico ed alcune serie fan made scritte da me ispirata da alcuni famosi franchise sono riuscito a migliorare il mio stile e ad ottenere un seguito di cui vado molto orgoglioso anche grazie ad alcune splendide persone che mi hanno aiutato e che sono diventate col passare del tempo miei cari amici